Si avvicina la giornata nazionale del fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, un'occasione quella del 15 marzo che vedrà l'associazione di volontariato FADA impegnata in diverse attività di sensibilizzazione tra le iniziative Mi Illumino di Lilla, una proposta che vede coinvolti vari comuni della regione Marche. Poi abbiamo aderito al Illumino di Lilla in tutta la regione, ci sono numerosi comuni che hanno aderito, quali Macerata, Ascoli, Punto Pessaro, Fossombrone e Urbino, che si illumineranno di Lilla affinché nella cittadinanza venga richiamata una consapevolezza rispetto al disturbo alimentare. Un primo obiettivo era che ci siamo dati in collaborazione con FADA, che è la nostra mamma che ci custodisce, è appunto il 15 di sensibilizzare con l'illuminazione dei monumenti. Il secondo passo sarà iniziare a fare i gruppi di mutuo soccorso con la presenza di persone specializzate nel quale poterci incontrare. Ancora non abbiamo una data ma a primavera sicuramente inizieremo e Facebook e WhatsApp saranno gli strumenti per dire quando inizieremo questo percorso. Per quanto riguarda strutture e centri, qual è la situazione nel territorio marchigiano? Allora, noi abbiamo solo tre ambulatori per i disturbi alimentari, uno a Fermo che copre la zona centro-sud Marche, quello di Esi che copre Ancona e questo qui di Pesaro che copre la provincia di Pesaro. Sono pochi. Abbiamo un ambulatorio e una struttura per ricoveri alzalesi per i minori, però questo assolutamente non è sufficiente. L'associazione Fada, con 110 soci provenienti da tutto il territorio marchigiano, dal 2016 è impegnata nell'attività sostegno dei familiari di pazienti dan, gestisce sportelli di ascolto e si fa promotrice di iniziative volte a sensibilizzare sul tema istituzioni e opinione pubblica. Nasce dall'esigenza di confrontarsi e di proprio supportarsi vicendevolmente, quindi di darsi luoghi di sostegno. Questa è la finalità prima. Sono 3 milioni in Italia le persone che soffrono di disturbi alimentari e della nutrizione, una vera e propria epidemia che colpisce per il 96% donne e per il 4% uomini. Arianna, una ragazza di 25 anni che ha preferito non mostrare il proprio volto, ci racconta della sua battaglia contro l'anoressia nervosa. Io ho iniziato a soffrire di disturbi alimentari inconsapevolmente, più o meno dalla seconda media, per una durata di tempo abbastanza lunga, fino al quarto anno di università. Quando mi sono rivolta al Galantara, quindi il centro per disturbi alimentari di Pesaro, appunto lì ho scoperto di in realtà soffrire di anoressia nervosa, quindi mi è stata diagnosticata nel gennaio 2022 e a luglio, quando ho aperto Villa Oasi, la prima comunità di cura per disturbi alimentari delle Marche, sono stata tra le prime 6 ragazze che in modo sperimentale hanno inaugurato questa struttura e ho vissuto per 8 mesi in questa comunità. Su questo problema c'è poca attenzione secondo te? Sì, c'è sicuramente una poca consapevolezza, si resta molto chiusi rispetto a un immaginario molto limitato di disturbo alimentare, un po' quell'immagine della ragazza anoressica che si ci percepisce molto più grossa di quello che è, ma in realtà questa problematica ha tante sfaccettature, è molto più complessa, è molto più insidiosa e soprattutto si rischia di entrare in un vortice di sensi di colpa sia dei ragazzi che delle famiglie che non permettono di vedere quello che sta accadendo, quindi una diffusione di cosa è realmente, di quali sono veramente i sintomi, di tutte quelle cose che in realtà nella società vengono normalizzate, si pensano che sono cose normali che capitano a tutti, in realtà avere consapevolezza, conoscere tutte queste cose è fondamentale perché ci si renda conto invece che è una malattia reale, importante e che va combattuta fin da subito perché non diventi qualcosa di cronico e poi molto difficile da affrontare.